e bentornati in rivarola allora abbiamo un attimino avevamo lasciato la città con disoccupati una cinquantina scarsi a dire quindi di fare un po di uffici eccoli qua 3 4 5 6 facciamo anche che zona con me c'è questa condizione non ne posso fare perché non abbiamo nulla ok oh qui oh interessante E ti chiedi E io Uffici Ti metto Qua Basta direi Uffici Mettiamo un altro po' qui E anche Qui La portata principale invece Non mettiamo nulla Perché era stata un po' più Trafficata No Dovrebbe essere stata più trafficata Allora come siamo messi Allora qui A posto E potrebbe servire qui un'altra scuola Però per ora Lasciamo stare Cerca ancora Uffici E noi Ti diamo altri uffici Ok Ok E Allora Nonostante abbia costruito No O sono scesi Poco Questa linea qui che è scesa Cado 5 Ancora niente Questa Ok Possiamo mettere qui Altri uffici Polizia 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 un po' Fatica Dove mettere un'altra Questa zona qui Più o meno Aspetta un attimo Che qua Mettiamo Eh no Zona commerciale Zona commerciale E Questa Zona commerciale È quello Off limits E noi Mettiamo Tutto qua Ecco qui Qua non crolla Mincavolo 140 orari 3.007 Di perdite Orarie 4.007 Siamo qua Siamo qua Ok Il crollo c'è stato Perfetto Mi sa che devo Spogare anche questa zona qui Così facciamo Un'altra zona Industriale specializzata Nel legno Poi Qui C'è un'altra piccola Zona che Possiamo Usare Ancora Mettiamo Cosa è questo Cereali Tecnicamente Zona Zona residenziali Torniamo a costruire Zona residenziali Un attimo Ok Questa è Questa è Mella densità Questa Altra Dai 37 E io non ce li ho 37 Da poter fare Quattro No Niente Niente Allora Fammi insieme Ah Server fammi insieme Di server informatici Mantenuti dalla città Il server informatico Potrebbe stare anche quello Per una zona media densità Che era Questo Devin Che era Per dare Questa Questa Allora In Ottimo Produzione Siamo in surplus con legno Quindi diciamo che altro legno non mi serve Con i cereali Diciamo in surplus Perfetto Galline, galline, galline E questo Fatto rispettare l'avvento di bestiame Si possono erigere E erigere ovunque Se la mettersi qua Quest'isolotto Ah, altrimenti quest'isolotto è inutile Se no, la piazziamo Qui Dai, facciamo così Compriamo 1, 2, 3 e 4 E vediamo pure questo A posto così E lo faccio Allora, la piazziamo Allora, la piazziamo Piccolino Ok Allora, la piazziamo Qua E lo vede come ponte questo Allora, la piazziamo Allora, la piazziamo Allora, la piazziamo Allora, la piazziamo Ok Anzi, no Grazie a tutti Ok Ho detto di fare Ovunque Quindi questo ovunque Lo possiamo mettere anche Qui E altra cosa che sto esportando Questo Oltre le galline Che è quello che ho messo adesso Sì, ok Oltre le galline Abbiamo il simbolo della carota Il simbolo della carota Questo Ok 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 allora poi facciamo prima questa zona però scusami non posso spostarla questo era sbagliato devo metterla qui devo metterla perché se la metto qua mi perdo quella zona invece no la mettiamo qui mettiamo questo e questo così grazie grazie mentre qui facciamo bestiame abbiamo detto grazie ok ok facciamo fare un'altra struttura qua una piccolina qui ci sta piccolina piccolina qui produzione potrei mettere un altro pollame ho pollame o carota e il pollame mi sa che lo posso mettere dovunque bene metto carota allora facciamo così e non l'ha presa grazie 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 a tutti. 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 Io qui un'altra struttura giusta per il legno la faccio. Grazie a tutti. 100, 138 impiegati comunque, buttali via. Sono un po' in dubbio. Ok, gli occupati però stanno scendendo, aspetta allora, aspettiamo un attimo. C'è il semaforo. Quindi, però facciamo, ah, le rotonde un po' più grandi è possibile averle, grazie. Il semaforo. Qui lasciamo pure il semaforo. Qui lasciamo pure il semaforo perché non c'è nulla. Qua. Ok. non facciamo nulla. Ok. Ok, torniamo la richiesta di uffici. la richiesta di uffici. La richiesta ce l'ho perché questo può smantellare l'altro. è vero. E' vero. E' vero. E' vero. profondità di uffici. C'è un po' più grande. Quindi, non facciamo una biblioteca. Oggi ha la biblioteca. Offre agli studenti maggiori possibilità di diplomarsi. Meno 157. Attenzione che siamo lì, lì, ad avere un guadagno orario. Attenzione. Grazie a tutti. Allora, io ho deciso che un'altra zona del legname la metto, la piazzo qui. L'industria in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Non c'è niente. Abbiamo ancora la zona difficile per fare come richiesta. Piazziamo qua, lì piazziamo qua, e questo lo lasciamo incompleto. Allora. 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 Qua prima ci fossero più alberi, quindi effettivamente i luoghi, effettivamente i luoghi, prendono e tagliano gli alberi, quindi. Ok. Ok. Allora. Invece di andare lontano, inizia con gli vicini. Ah. Vi taccia, vi taccia, vi taccia. Metti questo qua. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Allora. I disoccupati sono scesi intorno alla ventina, forza. Uh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ma qua uffici non ne metterei più onestamente. Questo è il college. Andiamo di qua un po' di uffici. No, ok. No, questo no. Quanto è disoccupati? Circa. Circa quasi meno. Circa quasi meno. Ho qua un po' di uffici di zona commerciale. No, ok. Vai. Ancanzi di mano d'opera. Ah, però è mano d'opera qualificata. Che vuol dire mano d'opera qualificata? Gente istruita. Per caso vi serve l'università... Abbiamo un guadagno, attenzione. Abbiamo un guadagno, ma se vi serve l'università... Cioè, io l'università della piazza non è quello un problema, cioè... Dov'è? Univet... Porca miseria. No, piazzare l'università vuol dire... Fare così. Parco universitario, parco che garantisce maggiore salute e benessere ai cittadini nelle vicinanze. Toh, piazzolo. Fai così. Posso spostarla? Posso spostarla? Sì. Spostarla vuol dire metterla così. Anche se in questo modo la rotonda non ci va. Ovviamente abbiamo adesso un negativo di 4.000, ragazzi, all'università. Eh, vabbè. Produzione. Qua stiamo esportando. Esportiamo. Galline. Ancora niente. E qua stiamo esportando pure. Sono le dalline e quello che non richiede né un là. Ma qua? ok così abbiamo messo un'altra struttura aspetta un attimo ok non li abbiamo disoccupati il che è una cosa buona e possiamo andare a mettere alta densità perfetto qui 2 oh e qui ok possiamo farla per così ok ok questo 428 qui e 300 qua neanche mille studenti nelle scuole elementari allora facciamo così così vediamo la a sette cervello ok aspettiamo che finiscano queste 4 costruzioni e poi chiudiamo il video siamo almeno 40 disoccupati quindi c'è bisogno di residenti tantissima gente si sta ammalando paese trafficato perfetto paese trafficato cosa abbiamo estrazione mineraria ok quartiere residenziale permesso in ingresso risolvi residenti o lavoratori del quartiere ciò aumenta il benessere dei residenti e riduce il crimine in quell'area non si applica ai servizi cittadini ok meno 20 ok abbiamo potuto termine anche quest'altra costruzione quindi possiamo mettere in fase al gioco con meno 10 abitanti per avere un equilibrio e nel prossimo video andiamo ad andiamo ad bloccare qualcosa di qua perché abbiamo comunque abbiamo 14 punti possiamo principio facciamo così lo facciamo già adesso ente es anzi non è il prossimo sblocchiamo sblocchiamo se no poi me lo dimentico nel prossimo video bloccheremo ente assistenziale e il municipio così pensiamo il municipio perfetto per cui a un prossimo video un prossimo video Grazie a tutti.